È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. L'interno del fútbol è finito all'interno dopo la scuola di gioco a Svizzera. E mentre ci si sta cambiando della guarda in l'italiano-nationale, Serie A sarà rappresentata in Russia prossima. La storia di calcio sarà particolari per due favori e un paio di ghiacciosi. Due time del gioco di gioco di argento Argentina sanno Paolo Dybala di Juventus e Inter's Mauro Icardi. Brazil, il più successivo nazionale della squadra più successiva, spero che il fuori fuori all'interno di Alessandro, anche da Juventus, e AS Roma's brillante No. 1 Alisson Becker possano inspirare a un giocatore a un giocatore della città. Croazia sono utile talenti, stanno Inter's thrilling wide man Ivan Perisic e potente bianconeri forward Mario Mandricic. And Belgium, another nation dreaming of lifting the World Cup for the first time, will enlist Napoli's speed merchant Dries Mertens e AS Roma's gladiator Raja Nangolam. There's plenty to keep Kautchall fans on the edge of their seats next summer, while the Azzurri rebuild the future.